Amici di Battista 70 Phone, al Mobile World Congress 2019, Wiko presenta Vue 3 e Vue 3 Pro. Partiamo con la versione Pro della gamma Vue 3. Questa versione è dotata di un display da 6.3 pollici, Full HD+, Ultra Wide, dotato di notch. Batteria da ben 4000 mAh, processore Mediatek Helio P60 e le versioni a disposizione sono 4 64 GB o 628, con memoria rispandibile fino a 256 GB. La back cover è in vetro e si trova sempre posteriormente il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 9 Pie, la fotocamera anteriore è da 16 megapixel e posteriormente abbiamo una tripla fotocamera 12 x 13 x 5 megapixel e è presente anche l'integrazione con Google Lens. Non mancano il Face Unlock, l'NFC e l'USB Type-C. I prezzi saranno di 2,49 per la versione 4,64 e di 2,99 per quella 628, con un'entrata in commercio prevista per la fine del secondo trimestre. Passiamo ora al Vue 3. Qui c'è un display da 6.26 pollici HD+, Ultra Wide, con notch. Anche qui batteria da 4.000 mAh, il processore questa volta è un Mediatek Helio P22, è una versione unica da 3 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna con un memoria rispandibile fino a 256 GB, la back cover è in similvetro e c'è un sensore delle impronte digitali posteriore. Il sistema operativo è Android Pie, la fotocamera anteriore è da 8 megapixel, la tripla fotocamera posteriore questa volta è 12 x 13 x 2 megapixel e rappresenta anche qui l'integrazione con Google Lens. Presente anche in questo caso il Face Unlock e considerato tutto il prezzo è molto competitivo se pensiamo che sarà proposto a 179 euro, anche se a destare maggior interesse dovrebbe essere la versione Pro maggiormente accattivante dal punto di vista della dotazione tecnica. Ad ogni modo anche per il Vue, per così dire base, la commercializzazione è prevista per la fine del secondo trimestre. Grazie e a presto.